qual è il modo migliore per insta la giornata se non con un fantastico caffè decaffinato poi ogni volta che faccio vedere il caffè ci sembra qualcuno che mi deve rompere il coglione dicendo che il caffè è acqua ci avete anche ragione oggi è martedì oggi è un grande giornata con gli ospiti dal pochino a gianluca oggi viene anche dave fratevi sono dovuto svilare presto per forza attività un problema rimanevano fuori casa c'è a tutti i ragazzi per questo nuovissimo video sono l'axono di questo nuovissimo daily fucking vlog oggi signori siamo qua siamo qua perché devo per forza fare il video dove parlo un po' della mia situazione oggi ci siamo svegliati presto sono le 10 c'è il tasco sveglio dalle 9 e mezza però comunque sono incoglionito e spero anche se sono le 10 e infatti cazzi caffè decaffeinato non mi farà niente ma almeno la sensazione sarà quella voi come state logicamente spero tutto bene spero che voi stiate passando una buona giornata e che voi state svegliati bene energici e pieni di voglia di fare no pieni di voglia di lavorare di far qualcosa che vi soddisfa e che vi dà soddisfazioni ecco ricordate sempre from the screen to the ring the pen to the king voi stare davanti voi stare davanti tu va bene dai stare davanti tu stiamo andando a mangiare un kebab ecco di i amici e ti mi hanno abbandonato che saranno alla pia il cibo io sto tenendo il magico posticino noi prendiamo magica pizza kebab comunque se avevo stoppato il video che ho in casa e ad un dato sono uscito ma è venuto il giandava la mattina abbiamo fatto un po' di robetti abbiamo visto due video abbiamo giocato un po' spark in zero ho chiaramente vinto logicamente e quindi niente semplicemente giusto per aggiornarvi un po' sul fatto che sono uscito effettivamente di casa perché mi sono tippato dal nulla senza dire nulla quindi questo semplicemente stavo dimenticando il film alla pizza avevo troppa fame guarda qua cioè è la metà ma guarda qua c'hai fatta vai vai puntina e dragon balle qua c'è il falò quindi qua dritto dovrebbe esserci la porta che mi serve cazzo l'ho mancato cazzo l'ho mancato cazzo l'ho preso posto c'è fatto adesso mi è tutto dritto eh sì che situazione aiuto tu 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 così e uso lui lo sciamano per ogni artefatto che che si acritico ti toglie un danno ad ogni ad ogni creatura ok per sempre signori che dire eccoci qua i due ragazzo sono andati a casa oggi abbiamo passato una bellissima giornata in compagnia ho mangiato una fantastica pizza kebab abbiamo fatto un girettino in un negozietto per carte a cui si viva andava di aprire il suo mazzo di magic e ho fatto un acquisto che adesso vi mostro ok ho fatto lui il magico kid boo guardate che bellino e questo adesso si andrà a unire alla cosa canonica che è stato tanto canonica non è però eccoci qua vada cala che ciala si queste qua sono le mie tre pop preferite perché vabbè che dire sono i dragon ball quindi un cazzo da dire qua sotto ne ho altre e così via io sono abbastanza un amante delle pop so che a molti non piacciono lo possono che capire però a me come cosa mi garba abbastanza ecco quindi non mi dispiace avere in un certo senso quindi poi abbiamo giocato un po' a dark souls almeno ho visto davide incimentarsi in una specie di solo no come si dice level one run se voglio dire così dove ha fatto un bel po' di robe fighe che avete fatto un po' a vedere anche qua in questo video infatti i spezzettoni che avete visto sono vari pezzi da aggiornati in un certo senso infatti questo video ci caricherò un po' più tardi per questo fatto qua e appunto ha fatto questa run solo a livello 1 su dark souls 1 appunto remastered è stato molto interessante vedere questa cosa poi ho giocato un po' a spark in zero intanto che gli altri giocavano a magic abbiamo visto un po' di dragon ball z e così così sono stati in compagnia mi ha fatto una bella giornadina in compagnia se c'è un po' di arcosina e io ragazzuoli vi ringrazio tantissimo per aver visto questo fantastico video noi ci vediamo domani nuovissimo daily fucking vlog e vi auguro una fantastica giornata spero che voi state bene e ci vediamo stasera in live mi raccomando vi aspetto in molti che stasera giochiamo un po' a code un po' a sonic e magari anche un po' a spark in zero con suiz quindi vediamo ok ci vediamo domani ragazzuoli ciao 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 ciao